Ciao a tutti ragazzi, sono Rinneganevo e oggi siamo sul primo commentary di Call of Duty Infinity Warfare. In questo commentary vorrò descrivervi un po' il gioco, di cosa ho trovato nella beta e di come penso che sia il gioco. Partiamo dalle armi, le armi che al momento vanno per la maggiore sono l'NV4, il K-BAR 32, l'R3K per i fucili d'assalto. L'NV4 e il K-BAR sono armi automatiche che sono quelle che utilizzo principalmente io, come in questa partita utilizzerò l'NV4. Mentre l'R3K è un'arma raffiche da 3 che vedo che è molto utilizzata anche per chi ha tanta connessione, perché con una raffica veramente ti distrugge. Mentre se lo usassi io, posso usare 28 raffiche, tiragli il fucile, le scarpe, le mutante, tutto ciò che posso avere da tiragli contro, ma il nemico se ne sempre straforterà e non riuscirò mai a uccidere. Mentre come mitragliette, porti che vedo che utilizzano spesso, l'FHR40, che assomiglia molto al P90 come disegno, come l'NV4 assomiglia al M4A1. Queste armi che dicevo sono quelle che vanno per la maggiore, quelle che al momento sembrano essere buone armi. Io ad esempio utilizzo l'NV4KBAR, come ho detto prima, con silenziatore, estrazione rapida e calcio regolabile, che mi permette di avere predatore come Mv3. Poi parliamo del nuclear. Il nuclear in questo gioco sarà un nuclear tattico come quello di Mv2, nel senso che quando verrà chiamata la nuclear, il gioco terminerà al momento dell'esplosione della carica nucleare. Però la carica nucleare non può venire fatta con qualsiasi arma del gioco, nel senso che se io voglio fare il nuclear, devo avere l'arma che mi permette di fare il nuclear. Nel senso, come avete visto, le armi sono molto come Advanced Warfare, nel senso che c'è l'arma base, poi c'è l'arma con dei perk prestabiliti o già intrinseci nell'arma. Ad esempio, non so, c'è quello che ti aumenta la velocità di ricarica se uccidi in airshot o robe simili. Qua devi avere praticamente il simbolo nucleare, che ti permette con quell'arma, con una serie di 25 gunsteri, quindi solamente con quell'arma, di ottenere la nuclear. E penso anche che se si utilizza l'inflessibile, anche se non credo, si possa ottenere la nuclear prima. Ma non ne sono convinto perché ho visto che l'inflessibile va solamente sulla serie di punti e non sulla serie di kill. Quindi sospetto che anche con l'inflessibile serva comunque 25 uccisioni. E poi, l'arma può essere o droppata nelle casse, che sono quelle che si possono aprire con le solite 10 o 30 crypt chiavi, oppure possiamo trovarle nelle fazioni. Io le ho chiamate così perché non so come chiamarle, assomigliano molto a quelle di Destiny. Quindi, praticamente ci sono delle missioni per 4 tizi diversi. Nel menu principale possiamo scegliere uno che ci darà degli obiettivi, come uccidi 5 persone in questa partita, vinci il tog di medaglie, uccidi in airshot. Cioè, ci sono varie missioni. In queste missioni servono per aumentare il livello della fazione. E aumentando il livello della fazione possiamo trovare delle armi che ci può dare la fazione. Come ad esempio io, qua non si vedrà nel video, però ve lo dico perché l'ho trovata, o anche un mio amico. Lui ha raggiunto il livello 20 della sua fazione e la fazione gli ha regalato, cioè gli ha regalato, sì, gli ha regalato l'arma con il simbolo nucleare. Quindi se lui, se riesce a chiudere una serie a 25 gunstreak, lui riesce a ottenere la nuclear. E proprio come vi dicevo prima, serve il perk apposta sull'arma per fare la nuclear e non armi qualsiasi. Tutte le kill fatte, anche se abbiamo l'arma con il nucleare, però facciamo delle uccisioni con un'arma raccolta da terra che non ha il perk intrinseco, noi nella serie non verrà contata. Quindi serviranno 26, 27 o più uccisioni in base a quante uccisioni abbiamo fatto con l'arma senza perk. E poi come giocabilità non è male, nel senso che il salto e lo spostamento in scivolata, a parer mio, è stato molto nerfato. Nel senso che una volta, come con lo studio di Black Ops 3 o Advanced Warfare, il salto contava tantissimo. Mentre qui mi sembra che il salto serva solamente per uno spostamento più veloce rispetto a un Black Ops che era proprio anche per ingaggio. Sì, qua riesce a fare l'ingaggio in jumpsuit, però visto come giocavano tutti i giocatori nella beta, mi sembra molto più solo per spostamento, non tanto per ingaggio o combattimento. Quindi a me potrebbe piacere molto di più perché io sono per un Call of Duty classico dove non ci sono salti, non ci sono superpoteri, non ci sono tutte queste cazzate che a me non piacciono. E poi troviamo 6 campioni, perlomeno li chiamo così, o 6 specialisti in base a come li chiamano le persone. E ognuno di questi specialisti ha 3 abilità attive e 3 abilità passive. Chiaramente possiamo tenere attiva un'abilità attiva e un'abilità passiva. Come io in questo momento sto utilizzando il terzo campione o specialista, come cazzo si chiama. Come abilità attiva c'ha sta doppia mitraglietta, le akimbo. Mentre come abilità passiva, cioè un'abilità che non dobbiamo attivare ma è già nel pippotto, come cazzo si chiama. E' la... che praticamente ho un boost dopo ogni uccisione, praticamente quando uccido io aumento la velocità di spostamento. Mi son trovato bene anche col secondo campione dove c'era praticamente un recupero della vita accelerato, uccidevi, venivi ferito. Entro meno tempo degli altri recuperavi istantaneamente la vita. Bellissimo anche il primo campione, quello che ti dà ping, come in Call of Duty Lost, che quando uccidi ti fa un mini radar che ti permette di vedere se c'è qualcuno nei paraggi. Quindi, io di questo Call of Duty della beta perlomeno sono abbastanza soddisfatto rispetto a Black Ops 3 e Advanced Warfare. Veramente a me ispira molto di più e che come ho detto prima io sono per uno Call of Duty classico. Ho voluto la mettere sotto questo video perché è una partita decente che ho fatto e intanto per raccontarvi due o tre robe sul gioco. Spero che il commentario vi sia stato interessante. Ricordo di seguirci sia sul canale sia sulla pagina di Facebook che ho lasciato in descrizione. Ciao a tutti ragazzi e ci vediamo sul nostro prossimo video.